Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo al Disney Store di Roma! Avviate il corso e adesso vi ci portiamo, entriamo! Sì, e ho visto, se non sapete il nome della capetta di Wish, si chiama Valentino e l'ho visto! Andiamo a vedere Valentino, vai! Guarda i vestiti di carnevale, logicamente è quasi carnevale! Ah, ecco l'ho visto! Ogni stella brilla per guidarmi, darò ascolto a quel che mi dirà! Ma guarda, tutta Aria e le sorelle di Aria! Le sorelle, tutte le sorelle principesse del film della Sirenetta, queste sono tutte le cose di Wish! Sono già usciti i giocattoli di Wish e c'è Valentino! Nei personaggi preferiti sono Ascia, Valentino e Starro! Starro, lo sapete che si chiama La Stellina, un nome un po' poco originale ma si chiama Starro! È poco originale! Sì, infatti! Giustamente, vediamo un po' qui che c'è! Le principesse, non ci faccio un domani! Sono i protagonisti, loro! Ma a voi piace la Disney perché lo sapete che noi abbiamo... Melissa ha la possibilità di sentire le canzoni della Disney dal vivo perché Papi, papà di Melissa, ha una band che fa le canzoni della Disney! La Once Upon a Time! La First metri a scelta! Oh Dio! C'è anche Simma da Piccolo! Oh mamma mia, quanto è bello! No, guarda questo! Che bello! Che bellino! O come lo chiamo io? Bagaboo! Ma appunto? Un corino bambi! Bambi! E c'è anche Minou! si oddio che carino perché sempre troviamo un po troviamo sempre robbie ci sono tutti gli accessori questi sono quelli che sono squish mellows guarda che belle queste spazzole di malefica guardate i trucchi ah è vero, è vero, le spugne, ciabatte comunque è caldo, mamma sbocciatelo un pochettino dai senza che te lo togli però perché tanto poi dobbiamo riuscire guardate c'è speech notare che mi disse ai panda sul vestito è bellissima e si possono acconciare no? si poi c'è anche quello di Anna guardate le principesse dal parrucchiere e si? io andiamo tutti insieme dal parrucchiere c'è simba che interato andiamo a vedere di qua, vieni ci stanno un angel speech ah vedi perché mi sono appena ricordata il nome della frianzata del speech che si chiama angel angel qui c'è mini con il cagnolino in un episodio l'ho visto questo cagnolino ma non mi ricordo come si chiama no, neanche io effettivamente poi vediamo un po' cosa c'è oh Hulk, questo piace a Noemi Noemi va matta per Hulk la piota oh mamma mia quanto è grande questo stitch la piota la piota guarda queste valigie che belle vabbè sui gioielli ho fatto la conoscenza di una serie di star wars ah questa qua young jedi si guarda mmm bellissima infatti sopra c'è scritto star wars eh si guarda guarda quel look lassù vieni Meli oddio che brutto e guarda che c'è il il pupù di stitch si si vabbè mi hai detto che pupurina va bene si pupù è tipo l'equivalente di cacca ah allora ti rimani stitch ha fatto grande stitch sotto la colina mamma 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 una cosa guarda che belli questi vestiti che cosa è quella quella cosa inquietante oh mamma mia ma non è inquietante il vestito è bellissimo ha un manichino che è inquietante guarda che belli pure questi qua oh il mirabel 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 non si nomina bruno no no non si nomina pomni no pomni eh si va be Melissa in questo periodo ha la passione per il Circus in tutte le salse quindi c'è Pommi sempre guarda che bella guarda che belle queste oddio queste sono bellissime che belle queste sono belle proprio e ci sono anche i personaggi eh sì allora questa è la mia Ressimena l'onore unico la città unico una città unico il unico interessante unico iscrivetevi al canale se volete ragazzi per il video è tutto mettete like e attenti perché anche contami gli iscritti faremo la nostra prima live e potete chiederci cose e saluteremo anche esatto quindi dal Disney Store a Via del Corso è tutto noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao con quel cagnolino che trovo ciao 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 ciao